Io ho iniziato i miei studi presso l'ITIS Giulio Riva di Salonno, una scuola informatica e da lì conclusi i miei cinque anni ho seguito l'esame per diventare effettivamente un perito tecnico, un diploma dove si è attestato come informatico, quindi può variare da sviluppatore piuttosto che assistenza tecnica sistemistica, comprendendo tutti i vari settori dell'informatica. Ho iniziato il mio primo impiego come assistente tecnico, quindi nel caso i clienti avessero problemi con l'app aziendale, chiamavano il nostro centralino e da lì cercavamo di proporre delle soluzioni che poteva essere banalmente riavviare il telefono, spegnere e riaccendere l'applicazione oppure cose più complesse, per esempio non funziona l'applicazione, la daremo in mano ai nostri sviluppatori. Concluso quel contratto ho deciso di intraprendere un percorso che fosse più attaccato a quello che volevo essere io, che appunto era lo sviluppatore. Sono entrato in questa multinazionale che propone delle soluzioni informatiche, altro sarebbe che creare, realizzare proprio delle applicazioni per telefono oppure computer. Stenti differenza ma dalla parte interiore, nel senso anche tu potevi essere allo stesso livello dei tuoi colleghi, però a livello pratico non ho percepito alcun tipo di differenza, perché comunque i nuovi devono allenarsi, esercitarsi con il lavoro che hanno scelto per essere sempre più in gamba. Io ho iniziato il mio lavoro come apprendistato, quindi propongono generalmente questo tipo di contratto per quelli che vogliono entrare in una realtà informatica. Una persona come me con apprendistato generalmente prende 1500 euro, inizia con un livello più basso, però non è detto che con il tempo questo possa andare a crescere, ovvero svolto il periodo di prova ed effettivamente si viene assunti dall'azienda, ci sono vari step che possono poi dopo portare a livelli più alti, quindi portare anche a un livello retributivo più alto. Io per esempio ho iniziato come tester, quindi colui che si occupa di controllare e provare che l'applicazione sia funzionante e al massimo portare delle modifiche che poi la porteranno ad essere sempre di più efficiente, poi da lì si può diventare un technical leader, ovvero colui che gestisce un piccolo gruppo di team di sviluppatori e da loro dei compiti precisi, sopra il technical leader poi si può diventare PM, ovvero project manager e questo controlla che tutti i piccoli team del suo progetto stiano funzionando, portino a termine il loro lavoro, il nostro contratto è prettamente mirato con i clienti, quindi noi lavoriamo otto ore per cinque giorni settimanali, non è detto che però il cliente richieda un'assistenza maggiore, il che ci porta a lavorare come straordinario al sabato, oppure di fermarci un po' di più delle otto ore per lavorare un'ora in più alla sera e portare modifiche al codice che noi abbiamo sviluppato con l'aiuto dei nostri colleghi sviluppatori che sono nel nostro stesso progetto. Questo comporta anche delle modifiche alle vacanze, ovvero nel caso il nostro cliente abbia bisogno in un determinato mese, noi sviluppatori quel mese non ci potremmo assentare per dare la nostra assistenza massima al cliente in questione. Lo smart working sarebbe la possibilità di svolgere il proprio lavoro presso la propria abitazione o comunque la propria casa. Questo permette di eseguire un lavoro che è a distanza però comunque collegato ai clienti, quindi se i clienti avranno bisogno di te dovrai comunque essere reperibile tramite cellulare aziendale oppure postazione di lavoro che è il PC. Ci sono anche delle restrizioni, ovvero ogni mese un dipendente dovrà andare obbligatoriamente in sede per fare conoscenze di nuovi colleghi, svolgere delle riunioni aziendali oppure le riunioni di team. Questo perché dal momento che si scende di intraprendere questo lavoro, questa clausola è presente all'interno del contratto, dovrai svolgere il lavoro cambiando ogni volta il team. Il team sarebbe un gruppo di persone che svolge il lavoro verso un cliente e i ruoli all'interno di questo gruppo variano. Esistono gli sviluppatori come me, esistono chi invece fa sistemistica, quindi si occupa di creare i database, quindi tutte quelle informazioni che noi facciamo e scriviamo quando andiamo a fare l'iscrizione ad un sito, piuttosto che a un'applicazione vera e propria, oppure ci sono i fornitori, quindi quelli che portano nell'azienda il materiale concreto, quello che poi dopo utilizzeranno sul luogo di lavoro. E tutto questo va fatto proprio in team, quindi ci deve essere sintonia, lavoro di squadra e presenza. A chi ha tanta voglia di imparare ogni giorno è ad essere sempre al passo con i tempi, perché l'informatica è una materia che ogni volta è in continua crescita, in continua modifica. Basti pensare l'intelligenza artificiale che sta ricevendo un sacco di modifiche ogni giorno. Dico anche che servono persone che hanno ogni volta bisogno di imparare perché nelle aziende informatiche solitamente propongono ogni volta nuovi corsi che devono essere svolti parallelamente al lavoro che si sta svolgendo. Questo perché l'azienda richiede che gli sviluppatori siano sempre pronti alle nuove modifiche del momento. Mi immagino non solo uno sviluppatore, ma se tutto va bene mi immagino anche un po' uno scrittore indipendente, dato che sto cercando di scrivere un mio libro personale. È un romanzo fantasy dove si occupa di creare dei personaggi utilizzando la mente e il proprio animo sentimentale come se fossero un po' dei superpoteri che si possono utilizzare per ogni giorno.